Alla Celta S.P.A. qualche giorno dalla nomina da parte del Tribunale di Milano dei tre commissari giudiziali, come ha spiegato dai sindacati, la situazione in qualche maniera si sblocca. Questo perché è stato convocato per il prossimo 7 maggio un tavolo istituzionale a Roma. A renderlo noto è stato il deputato terramano Antonio Zennaro del Movimento 5 Stelle. In quell'occasione, oltre ai rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, saranno presenti i tre commissari giudiziali, i delegati delle regioni che rappresentano i territori nei quali è dislocata l'attività della Celta, la storica azienda che opera nel campo delle telecomunicazioni sindacati, che da mesi spingono verso questo tipo di approdo alla vertenza. Un incontro molto atteso perché saranno diversi i nodi da sciogliere, in merito sia al futuro dell'intero gruppo, che conta a quattro stabilimenti, ma anche sugli ammortizzatori sociali per i dipendenti, circa 80 solo nel sito produttivo di Tortoretto, che sono oramai quasi scadenza. Finalmente è arrivata la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico che ci ha convocati per il 7. Il 7 mattina noi faremo un'assemblea di tutti i lavoratori alla Celta, con la partecipazione del nostro segretario nazionale della FIM, penso ci sarà anche un nazionale della FIOM, spiegheremo ai lavoratori tutti i passaggi da fare, dopodiché partiremo per il Ministero dello Sviluppo Economico per cercare la quadra al tavolo ministeriale. Un incontro molto importante, quale potrà essere lo scenario? Per il momento noi puntiamo al fatto che stanno finendo gli ammortizzatori sociali, quindi la priorità è quella. A giugno finirà la cassa integrazione e noi non sappiamo dove sbattere la testa, quindi la prima cosa da affrontare sarà quella. Poi tutto il resto per il salvataggio dell'azienda verrà in seguito, perché non penso che in un solo incontro troveremo la quadra. Vedremo tutte le situazioni e valuteremo tutte le situazioni per il salvataggio della Celta in generale e soprattutto per il sito di Tortoreto. Devo dire anche e fare alcune correzioni su alcuni articoli di giornali usciti di qualche politico che diceva che è stato accettato il concordato preventivo. Bene, magari fosse. Non è il concordato preventivo che è stato accettato, ma l'amministrazione straordinaria. Da lì ad arrivare al concordato preventivo ne passa parecchio. Se fosse stato quello saremmo tutti contenti.